Secondo giorno consecutivo di scontri in Sudafrica, nel campus dell'Università di Bitwatersrand, la più importante di Johannesburg. Gli studenti hanno cominciato di nuovo a protestare a favore dell'istruzione universitaria gratuita per tutti. Il governo afferma che non ci sono abbastanza soldi quest'anno, garantiti però i diritti dei meno abbienti. Ma gli studenti non ci hanno creduto, dice una portavoce dell'Università. Ci siamo offerti di protestare, marciare con gli studenti, ma non siamo d'accordo con la violenza o con qualsiasi comportamento che comporti violenza, minaccia o intimidazione. Dice un'altra ragazza, i ragazzi stavano cantando, i poliziotti hanno fatto peggio, hanno solo sparato. Stavo lì e ho pensato, non dovrei correre, così vedono che sono innocente. Invece quelli hanno preso a sparare a casaccio, ovvio che mi sono messa a correre. Le lezioni erano riprese regolarmente dopo le violenze che avevano sconvolto molte vie attorno all'università.